Sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi consiglieri comunali di Giulianova segnando l'inizio del Costantini Bis. La maggioranza, composta da 11 consiglieri, vede una distribuzione eterogenea dei seggi tra le varie liste che hanno supportato il sindaco durante le ultime elezioni. Siamo soddisfatti, abbiamo una maggioranza granitica che si metterà al lavoro sin da subito per cercare di continuare questo percorso amministrativo che è stato premiato dagli elettori. Quindi in 10 giorni andremo a convocare il consiglio comunale, faremo l'aggiunta e entro i prossimi 20 giorni ci sarà il primo consiglio comunale. La lista del sindaco ha assicurato due seggi occupati da Marco Cartone e Paolo Bonaduce. Obiettivo Giulianova segue con altri due seggi affidati a Roberto Mastrilli e Federico Montebello mentre Fratelli Italia vede entrare in consiglio Maria Luisa Orfanelli e Matteo Francioni. Un risultato significativo è stato ottenuto da Giulianova Turismo che si è giudicata a tre seggi grazie a Paolo Giorgini, Nausicaa Cameli e Marco Di Carlo. Verso Giulianova e Forza Italia conquistano rispettivamente un seggio ciascuno con Riccardo Cichelle e Lidia Albani. Da notare l'assenteismo di una parte dei consiglieri di minoranza Alberto Ortolani e Franco Arboretti. Inaspettatamente il gruppo guidato da Daniele Di Massimo Antonio si è assicurato due seggi uno per l'ex candidato sindaco e uno per Alessia Mazzagufo. Mentre Alessandra Matone del PD non è riuscita ad entrare in consiglio come si pensava. Da oggi si apre ufficialmente questo secondo mandato e quindi da domani mattina saremo al lavoro per la composizione della giunta. Però ha già in mente la nuova squadra? Ma diciamo che ci sono tanti assessori uscenti che sono stati rieletti e quindi io mi auspico di avere una continuità amministrativa e naturalmente valuteremo anche nuovi innesti. Ripeto, per fortuna abbiamo una maggioranza granitica e quindi insieme a loro andremo a regalare la migliore giunta possibile per la città di Giulianova. Lei però ha subito dichiarato dopo la vittoria che guarderà soprattutto le preferenze che ogni candidato ha ricevuto. Io rispetto il giudizio popolare e quindi rispetto quello che gli elettori hanno votato all'interno della cabina elettorale e quindi sicuramente i più eletti faranno parte della giunta. Il primo consiglio comunale si terrà entro 20 giorni in piazza Buozzi dove il sindaco annuncerà alla cittadinanza la nuova giunta.